Raccontaci quei sessanta metri palla al piede. Sono riuscito a recuperare palla prima della metà campo, intercettare un passaggio e volevo passarla ad Amir. L'hanno seguito, ho provato a dar da solo, è andata bene. Abbiamo detto più volte in studio che Busellato per tanti motivi è indispensabile. Non sono d'accordo con voi, già l'avevo detto mille volte. Cerco di dare una mano quando sono chiamato in causa e oggi è andata bene. Mi dici che cosa è mancato per i gol del 2-0? Perché potevi fare la doppietta. Sì, ero dietro il terzino loro, ho cercato ad anticiparlo col piede, li ho battuto addosso al ginocchio suo. Non è andata bene come il primo. L'ultima perché deve ripartire il fullman. Quanto siete contenti dell'atteggiamento, della prova e del risultato? Siamo contenti di aver strappato un punto. In realtà c'è molto lavoro da fare ancora, siamo consapevoli. Penso che sia fondamentale dare continuità al sabato.